I veleni delle fabbriche del nord smaltiti nelle campagne casertane, come in una scena del film Gomorra, i militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Caserta hanno scoperto un'area della zona industriale di Gricignano di Aversa, costituita da due capannoni industriali per una superficie complessiva di 4.000 m2 utilizzata come discarica abusiva. All'interno del sito, gestito da due società, sono state trovate oltre 200 tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi, dei quali più di 26 quintali di oli esausti, in massima parte costituiti da scarti di lavorazione industriale provenienti da imprese del nord d'Italia. Quattro persone originarie di Napoli sono state denunciate alle autorità giudiziarie e dovranno rispondere del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. L'attività si inquadra nella costante opera di tutela del territorio da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in linea con le iniziative assunte nell'ambito del protocollo organizzativo di salvaguardia ambientale della provincia di Caserta, sottoscritto a gennaio del 2011 alla presenza dei ministri dell'interno della giustizia e dell'ambiente. Le indagini comunque proseguono per verificare l'eventuale coinvolgimento degli imprenditori settentrionali e soprattutto della criminalità organizzata da sempre in prima linea nel trasporto da nord a sud dei rifiuti speciali e nello smaltimento degli stessi nei terreni della Campania.